Grazie, saluto tutti i presenti, tutte le autorità civili, militari e religiose, saluto la Presidente della Corte d'Appello, il Procuratore Generale, il rappresentante del Consiglio Superiore della Magistratura, il Presidente dell'Ordine degli Avvocati. Saluto voi tutti. Sono molto onorato di essere qui oggi, nella Corte d'Appello di Milano, ad illustrare in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario i risultati dell'azione di governo nell'amministrazione della giustizia per il 2019 e le prospettive per il 2020. Quest'anno sento ancora di più la responsabilità in un momento in cui il nostro Paese, in un settore cruciale come quello della giustizia, deve avere l'ambizione di affrontare nuove sfide, allontanando dai cittadini quel germe dell'incertezza e della precarietà delle istituzioni, che è fisiologicamente connesso ai momenti di instabilità e conflittualità politica. A tal proposito, ci tengo con orgoglio a sottolineare come la crisi di governo della scorsa estate non abbia pregiudicato quella continuità amministrativa che è presupposto dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione della pubblica amministrazione. Le iniziative che ho inteso portare avanti, sin dal mio primo mandato governativo, sul versante dell'innovazione tecnologica, delle riforme legislative e del potenziamento dell'intero apparato della macchina giudiziaria, prive di qualsiasi colore politico, si sono dunque ulteriormente consolidate e il perseguimento degli obiettivi annunciati proseguirà anche per l'anno 2020. Vogliamo realizzare un apparato amministrativo credibile, efficiente e moderno, che metta al centro non se stesso in una logica autoreferenziale, ma il cittadino, la sua vita e i suoi bisogni. Questa nuova prospettiva è stata anzitutto concretamente garantita dal metodo del confronto aperto, leale e costruttivo con i diversi attori della giurisdizione, che oltre ad essere autorevolissimi interlocutori, vivono la quotidianità della giustizia e più di tutti hanno modo anche di percepire momenti di maggior criticità nella tutela dei diritti rivendicata dai cittadini. E' un confronto che proseguirà questa mattina, in cui avrò il piacere di ascoltare tutti gli interventi che si succederanno nel corso della mattinata. E dico, Presidente, che prenderò forse qualche minuto in più per rispondere alle numerose sollecitazioni che sono arrivate, che sono sicuro arriveranno, e che arrivano non soltanto da qui, ma dalle numerose dichiarazioni che questa mattina, l'inaugurazione dell'anno giudiziario, arrivano più o meno da tutta Italia. Tanto premesso, è evidente che gli obiettivi prefissati potrebbero restare lettera morta se non fossero accompagnati da cospicui investimenti nei settori che notoriamente fanno registrare carenze endemiche, il personale di magistratura, quello amministrativo o l'edilizia giudiziaria. Ecco perché nel bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 sono stati previsti per il Ministero della Giustizia stanziamenti per oltre 8 miliardi e mezzo di euro e raggiungeranno quasi 9 miliardi di euro per l'anno 2020. Carenza di personale amministrativo e inadeguatezza delle piante organiche, numero di magistrati inferiore al del 50% rispetto alla media europea, strutture giudiziarie troppo spesso fatiscenti e poco funzionali e rappresentano handicap oggettivi per neutralizzare i quali non è mai stato fatto abbastanza. E rispondo anche alle diverse sollecitazioni, tutte oggettive che già sono state proposte dalla Presidente. Io non pretendo in un anno e mezzo e forse nemmeno in due anni di risolvere tutti i problemi di organico, tutti i problemi infrastrutturali che però diciamocelo onestamente sono il risultato di decenni di trascuratezza da parte dello Stato nei confronti del settore della giustizia. Pretendo di mettere tutto il mio impegno, devo dire che già il mio predecessore aveva quantomeno bloccato quella direzione di indifferenza da parte dello Stato, pretendo di metterci tutto il mio impegno per dar vita a uno sforzo assunzionale che già oggi, lo dico con estremo orgoglio e senza precedenti, nella storia della Repubblica. Nel 2019 abbiamo prodotto uno sforzo senza precedenti in termini di politica di assunzione, tanto sotto il versante del personale amministrativo, quanto di quello dei magistrati. Ricordo gli investimenti operati dalla legge di bilancio per il 2019, necessari per l'incremento delle dotazioni organiche della magistratura, a cui ha fatto seguito il primo decreto ministeriale attuativo per la rideterminazione delle piante organiche degli uffici di legittimità aumentate di 70 unità, mentre con riferimento alle restanti unità destinate agli uffici giudiziari di merito, la proposta del Ministero, in relazione alla quale si attende il parere del Consiglio Superiore della Magistratura, prevede l'assegnazione di 402 nuovi magistrati agli uffici di merito e 54 posti di magistrato distrettuale. Tra l'altro, segnalo che per il distretto della Corte d'Appello di Milano, la proposta prevede l'aumento di 35 unità. Medesime considerazioni valgono con riferimento al personale amministrativo, rispetto al quale la legge di bilancio per il 2019 ha stabilito che il Ministero della Giustizia è autorizzato, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente e soprattutto in deroga al turnover, ad assumere 2.903 unità di personale amministrativo nel triennio 2019-2021 per una complessiva pianificazione dei reclutamenti di personale non dirigenziale pari a 8.756 unità nel triennio. Per quanto concerne l'edilizia giudiziaria, con il decreto ministeriale del 18 aprile 2019 sono stati istituiti i profili delle figure di funzionario tecnico e di assistente tecnico presso gli uffici centrali e periferici dell'amministrazione per dare finalmente un supporto professionale concreto alle nuove funzioni dal 2015 demandate anche agli uffici giudiziari. Gli investimenti corrono a fianco dello snellimento e della regolamentazione nei rapporti con le altre amministrazioni coinvolte, nella consapevolezza che non è sufficiente destinare risorse se tali risorse poi rimangono imbrigliate nelle reti della burocrazia. D'altronde è l'esperienza drammatica che hanno vissuto proprio gli uffici milanesi nei quali lo scorso anno è accaduto un fatto di una gravità inaudita a seguito del quale, oltre a portare la mia personale vicinanza all'Avvocato Antonio Montinaro il Ministero ha tempestivamente svolto tutte le attività di sua competenza stanziando peraltro immediatamente la somma di 650 mila euro poi elevata a 930 mila euro per i lavori necessari eppure, a causa delle lunghe procedure, l'intervento non è stato compiuto e il problema non attiene soltanto alla sicurezza ma alla percezione della trascuratezza che può riceverne chiunque passi in quel punto delle scale le procedure sono lunghe, ma vi assicuro che oltre allo stanziamento dei fondi è costante ed elevatissima la mia attenzione su questo palazzo e sulla vostra sicurezza e a tal fine il Governo si sta muovendo per semplificare e snellire tutte le procedure necessarie per poter dare interventi tempestivi tra l'altro mi preme sottolineare che l'Avvocato Montinaro e la sua famiglia hanno e continueranno a ricevere la massima attenzione e disponibilità da parte del Ministero rispetto alle loro istanze come gli ho personalmente testimoniato cambiando argomento sta progredendo spedita la procedura per l'avvio della sede locale di Milano della sede locale di Milano del Tribunale Unificato Europeo dei Brevetti che ci vedrà perfettamente e tempestivamente operativi nel momento in cui il nuovo sistema entrerà in vigore per quanto concerne la sede centrale ogni valutazione specifica da parte mia sarebbe prematura in questo momento non potendo nemmeno contare su una certezza in ordine agli scenari conseguenti alla Brexit tutti gli investimenti di cui ho parlato sono il frutto di un'attività intensa e instancabile del Ministero perfettamente consapevole delle difficoltà ereditate dal passato in cui ancora versano numerosi uffici giudiziari ma determinato nell'espletare il compito ambizioso riconosciutogli dall'articolo 110 della Costituzione permettetemi di sottolineare che è la stessa determinazione che ho potuto cogliere nei numerosi incontri con i vertici degli uffici di questo distretto che rappresenta una vera eccellenza nel panorama nazionale sul versante delle riforme nel corso del 2019 il settore civile è stato teatro di significativi interventi legislativi come la nuova disciplina della crisi di impresa e la riforma del processo civile il cui disegno di legge è stato approvato in Consiglio dei Ministri il 5 dicembre 2019 tali interventi sono in grado di assicurare un recupero di efficienza e di fiducia nella giustizia ponendo idealmente il cittadino, il professionista e l'impresa al centro del sistema con conseguenti positive ricadute in termini sociali ed economici unitamente agli obiettivi di alleggerimento dell'architettura del processo civile di cognizione nel corso dell'anno 2020 si proseguirà nell'adozione di misure di innovazione organizzativa e di ammodernamento tecnologico a supporto della giurisdizione in particolare segnalo le iniziative di completamento dell'estensione del processo civile telematico alla Corte di Cassazione e agli uffici del giudice di pace la tecnologia può rivestire un ruolo fondamentale non soltanto in un'ottica di efficientamento applicata per esempio ai cosiddetti adempimenti di cancelleria ma anche come esclusivo ponte di ingresso per strumenti e istituti necessari per la migliore tutela dei cittadini mi riferisco in particolare alla legge numero 31 del 2019 sull'azione di classe il percorso di miglioramento dei profili organizzativi del sistema giudiziario è stato tracciato anche nel settore della giustizia penale sotto il profilo sostanziale e processuale le principali linee di intervento si sono concentrate lungo le direttrici fondamentali del rispetto dei principi costituzionali della certezza della pena e della ragionevole durata del processo nonché nella lotta alla corruzione e a quei fenomeni come la violenza di genere in grado di erodere il tessuto sociale ed economico del Paese colpendo in particolare le fasce più deboli della popolazione la legge anticorruzione numero 3 del 9 gennaio 2019 come è noto ha introdotto una nuova disciplina sulla prescrizione nonché molteplici misure strutturali che attengono sia agli aspetti repressivi e sanzionatori che a quelli riguardanti l'attività di indagine con orgoglio segnalo che sono già numerosi i riscontri positivi a livello internazionale tra i quali in particolare il gruppo di stati contro la corruzione presso il Consiglio d'Europa, il Greco e l'Ocse sono risultati che voglio testimoniare proprio in questa sede che da oltre 30 anni è un vero e proprio punto di riferimento nella lotta alla corruzione avendone intercettato con lungimiranza le commissioni con politica e criminalità organizzata la mia ferma volontà di preservare dal cancro della corruzione circuiti economici è anche ovviamente preordinata a ridare credibilità e attrattività al nostro Paese quale luogo di investimenti produttivi e finanziari sicuri, protetti e ad alta potenzialità positiva strettamente connessa alla lotta alla corruzione è l'introduzione di una novella legislativa di contrasto all'evasione fiscale sono fenomeni che influenzano negativamente la realtà socio-economica dando vita a distorsioni del mercato e disuguaglianzi sociali impedendo la riduzione della pressione fiscale e soprattutto il reinvestimento dei proventi dall'attestazione a vantaggio della collettività per dare un segnale forte scusate per dare un segnale forte che tenesse conto anche delle sollecitazioni delle corte e organismi europei segnale che ha già avuto riconoscimenti in sede delle Nazioni Unite con la legge nota come codice rosso del 19 luglio 2019 si è finalmente introdotta una corsia preferenziale per il contrasto alla violenza di genere si tratta di una vera e propria emergenza sociale che andava affrontata anche nella consapevolezza delle ricadute per gli uffici giudiziari sul versante organizzativo ho appreso che alcuni uffici requirenti si sono dotati di provvedimenti organizzativi specifici per dare concreta attuazione alla legge a questi importanti progetti organizzativi si accompagna l'impegno già avviato del Ministero a destinare maggiori risorse alle procure della Repubblica e a monitorare il tema della violenza di genere con particolare attenzione alla fase di prima applicazione del cosiddetto codice rosso per sviluppare doverosamente ogni verifica di impatto io questa mattina non avevo previsto un riferimento al progetto di riforma del processo penale semplicemente perché è un progetto di riforma che è ancora al vaglio della maggioranza e non ha nessuna ufficialità e nessun carattere definitivo tale da poter essere esposto in una sede solenne istituzionale come questa però le numerose sollecitazioni mi impongono di fare alcune precisazioni che mi consentirete in particolare ci tengo a dirlo quel progetto di riforma del processo penale attualmente come si sa su quel progetto ci sono diverse divergenze che praticamente hanno trovato il loro nodo principale sul tema della prescrizione su cui c'è una divergenza di opinioni che io rispetto ed è una divergenza su cui mi sono aperto al contraddittorio con tutti gli addetti ai lavori tant'è che la riforma del processo penale almeno questo progetto è stato elaborato all'esito anche di un tavolo in cui erano presenti il Consiglio Nazionale Forense lo CF l'Aiga le Camere Penali e l'Associazione Nazionale Magistrati detto questo che le divergenze ci siano è quasi fisiologico non contraddittorio io rispetto quelle divergenze mi dispiace che a volte vengano raccontate soprattutto all'esterno come divergenze di carattere quasi ideologico a prescindere da qualsiasi impostazione tecnica con lo dico sinceramente con la più grande divergenza probabilmente è con gli avvocati penalisti che io rispetto anche perché nel corso di un dibattito sulla prescrizione che è durato per circa 30 anni probabilmente sono gli unici e sottolineo gli unici che non hanno mai cambiato idea su questo punto ma quella contrapposizione non è ideologica e non ha impedito che ci fosse un contraddittorio vero su tante altre misure che sono entrate nel progetto di riforma del processo penale tantissime le più innovative sono proprio proposte che arrivano dall'avvocatura e su questo permettetemi di dire che le critiche che oggi venono sollevate in realtà sono argomentazioni che io condivido in parte cioè l'idea per cui dobbiamo intervenire sui tempi del processo è un'idea che condividiamo tutti semplicemente ritengo che la riforma del processo penale potrà intervenire su quei tempi riducendoli io leggo stamattina che ci sono delle anticipazioni su quello che dirà il presidente dell'ordine degli avvocati Nardo sul fatto che si parla di levare la prescrizione per accorciare i tempi non ho mai detto questo non ho mai detto che per me la prescrizione è un modo per ridurre i tempi ho semplicemente un'impostazione differente e ritengo ingiusto che lo Stato arrivi ad un punto in cui dopo aver speso soldi ed energie per portare avanti l'accertamento di alcuni fatti ma a un certo punto debba quel lavoro debba essere screcato nel nulla a causa del tempo che sicuramente è lungo la mia impostazione e che bisognerebbe lavorare sul tempo e d'altronde quello che ha detto la Presidente Tavassi e cioè sul fatto che negli uffici del distretto di Milano la prescrizione è un problema diciamo marginale per la bassa percentuale di impatto dimostra dal mio punto di vista che qualsiasi riferimento qualsiasi intervento sulla efficienza del processo qualsiasi riduzione del tempo dei processi potrà poi a seguito di quegli efficientamenti che magari poi in tutta Italia arriverà come auspico e sto lavorando per questo a livello degli uffici milanesi a quel punto la prescrizione diventerà un problema marginale ma ripeto rispetto tutte le opinioni divergenti mi dispiace cioè che vengono a volte utilizzate per etichettarvi con aggettivi che ormai sono all'ordine del giorno come l'inciviltà o come il manettare o facendo riferimento e leggo ancora stamattina alcune agenzie che fanno riferimento addirittura a casi che non voglio nemmeno citare perché non hanno nulla a che fare con il dibattito in questione di gravissima ingiusta detenzione su cui non sono le parole che danno una risposta mai fatti sono il primo ministro della giustizia e sottolineo il primo che ha stabilito un controllo strutturale dell'ispettorato del ministero su tutti i casi di ingiusta detenzione controllo che prima veniva fatto soltanto sulle cosiddette scarcerazioni tardive proseguo notevole sforzo è stato profuso in materia penitenziaria agli investimenti in materia edilizia 350 milioni per il periodo 2018-2033 si accompagna il potenziamento del lavoro per i detenuti la cui concreta efficacia rieducativa attraverso la professionalizzazione si riverbera sulla sicurezza della collettività limitando il fenomeno della recidiva massima attenzione è stata prestata alle politiche concernenti l'incremento della dotazione organica e strumentale dell'amministrazione penitenziaria per pari impegno è stato profuso per il rafforzamento degli uffici di esecuzione penale esterne della giustizia minorile che qui a Milano vede uno dei suoi punti di forza pur nella consapevolezza che ambiti così delicati meritano risorse personale sempre più numeroso e specializzato sul versante internazionale è doveroso da parte mia evidenziare che la dimensione transnazionale della criminalità organizzata unita alla sempre latente minaccia del terrorismo internazionale richiede un costante e intenso impegno nell'attività di cooperazione giudiziaria e di partecipazione alle attività multilaterali delle organizzazioni internazionali una partecipazione che diventa ancora più significativa nella ricorrenza quest'anno del ventennale della convenzione di Palermo nata da una geniale intuizione di Giovanni Falcone a cui hanno aderito circa 190 paesi di tutto il mondo una convenzione che richiama il ruolo di capofile e di leader dell'Italia nell'attività di contrasto alla corruzione e alla criminalità organizzata e che impone una riflessione sul percorso da proseguire voglio concludere il mio intervento invitando tutti a non abbassare mai la guardia contro i tentativi più o meno espliciti di portare avanti una narrazione falsa di quello che accade nella giustizia italiana e non mi riferisco soltanto al presente ma anche alle distorsioni della realtà storica e giudiziaria che si celano dietro lucubrazioni che soltanto per il lungo tempo trascorso dai fatti analizzati pretenderebbero di essere più lucide io rispetto le opinioni le analisi e le ricostruzioni di tutti ma chiedo rispetto per la voce dello Stato che passa anche attraverso le decisioni che i magistrati scrivono in nome del popolo italiano e che condivisibili o meno non vengono cancellate dal passare del tempo da parte mia sarò sempre a fianco degli avvocati magistrati agli altri operatori del sistema consapevole del ruolo che tutti svolgono un ruolo che deve essere preservato difeso e riconosciuto deve essere protetta l'indipendenza della magistratura che va difesa con norme che fermino una volta per tutte sia le porteggirevoli tra i giudici e la politica sia le cosiddette degenerazioni del correntismo deve essere protetta anche l'indipendenza degli avvocati perseguitati in molte parti del mondo il cui ruolo meriterebbe di essere esplicitamente sancito a livello costituzionale proprio sulla base di questa consapevolezza si è sviluppata anche sulla base di questa consapevolezza si è sviluppata la mia attenzione in materia di ecocompenso non solo come aspetto meramente economico ma di tutela di dignità della professione così come ho detto all'inizio la sfida che ci attende è diretta al risultato ultimo di raccogliere le idoglianze e i bisogni dei cittadini e di porre al centro dell'attuale processo di rinnovamento i diritti della persona facendosi carico delle aspettative di giustizia di protezione e credibilità che prevengono dalla cittadinanza dal mondo dell'economia e del lavoro e dalla realtà sociale faccio a tal proposito con commozione mio il pensiero di Francesco Saverio Borrelli testimone protagonista di un passaggio cruciale della nostra storia repubblicana il valore del sistema giustizia è fondamentalmente legato all'indice di consenso che la giustizia trova fra gli amministrati vivendo esso in buona parte dell'ossigeno che proviene dalla collaborazione dei cittadini grazie per l'attenzione e buon anno giudiziale a tutti